Signori buongiorno e bentornati sul canale del Master Kai. Io sono il Master Kai e il vostro ospite su questo canale. Una delle cose che caratterizzano il gioco di ruolo e lo differenziano dalla maggior parte delle altre forme di intrattenimento narrativo è la virtualmente totale capacità dei personaggi di influenzare e interagire con il gioco stesso e l'ambiente in cui il gioco si svolge. Questo però porta molti Master a cadere in una sorta di paradosso. Come posso raccontare una storia se non posso sapere a priori cosa faranno i protagonisti di quella storia? Spesso però questo paradosso nasce dal fatto che il Master dimentica che non sono solo i giocatori a dover scrivere dei personaggi coerenti con una linea di pensiero chiara e motivata, ma che il Master è tenuto a fare la stessa identica cosa col suo cast dei PNG. Questo è quello che tecnicamente viene definito il metodo dei PNG motivati. Si sente spesso dire che le grandi storie non sono fatte da grandi trame ma da grandi personaggi. Questo in pratica vuol dire che non è il flusso delle azioni che i personaggi svolgono a rendere un racconto interessante, ma sono le motivazioni che spingono i personaggi ad agire in quel determinato modo a catturare chi ascolta il racconto e a fargli venire la curiosità, fargli venire la voglia di vedere come il racconto va a finire. Questo vale in tutte le forme narrative, che si stia parlando di un libro, che si stia parlando di un film o come nel nostro caso di un gioco di ruolo. Quello che cambia in un gioco di ruolo però è che chi fluisce della narrazione, cioè chi ascolta la storia, e chi è l'artefice della narrazione, cioè chi la racconta, coincidono. Sono gli stessi giocatori che si raccontano la storia tra di loro e che la raccontano al Master. E la stessa cosa il Master racconta la storia dei giocatori e se la racconta da solo con l'interazione che ha coi giocatori. Sono però i giocatori a dover essere i protagonisti del racconto e il Master non può andare a influenzare direttamente le loro azioni per renderle più interessanti. Come può fare quindi il Master a creare grandi storie con grandi personaggi se quei grandi personaggi sono del tutto fuori dal suo controllo? Semplicemente non deve focalizzarsi sulla storia di per sé o sui suoi protagonisti, ma sui suoi coprotagonisti e suoi antagonisti, che nel nostro caso sono proprio i PNG. E fare in modo che siano le loro motivazioni che interagiscono a lasciare che la storia si scriva fondamentalmente da sola. Sì, la storia può scriversi da sola, state un attimo calmi che adesso ve lo spiego. Se i PNG sono personaggi sufficientemente strutturati e hanno delle chiare motivazioni che gli spingono ad agire, il Master non avrà bisogno di scendere nei dettagli della sua linea narrativa. Ma fondamentalmente basterà che interpreti i PNG come i giocatori fanno con i loro PG e lasciare che siano appunto le interazioni tra i PG e i PNG a decidere come la storia proseguirà. Fondamentalmente sarebbe come dire che basta che il Master assegni a ogni PNG una sua quest e poi giochi quella quest in maniera coerente con le motivazioni, con il carattere di quel PNG. Questa tecnica di narrazione, come si è detto, prende il nome di PNG motivati, perché si concentra non tanto sulle azioni dei PNG, ma sulle motivazioni che spingono quei PNG ad agire in un determinato modo. Per rendere le cose più chiare procediamo con un esempio. I giocatori stanno esplorando le rovine abitate da una tribù di lucertoloidi, adoratori dei draghi, in cerca del leggendario tesoro e la città perdita. Secondo i piani del Master, gli avventurieri dovrebbero arrivare alle rovine, affrontare una serie di incontri contro i lucertoloidi per arrivare alla fine alla stanza del tesoro dove affrotteranno il sacerdote del drago e potranno prendere il tesoro. Durante uno degli scontri, però, uno dei giocatori comincia a porsi dei dubbi sulla legittimità delle azioni del party. Dopo tutto stanno massacrando un sacco di lucertoloidi al solo scopo di derubarli. Non è esattamente qualcosa che ricada nell'ambito delle buone azioni. Il suo personaggio a questo punto parla con il resto del party e gli avventurieri decidono di scusarsi con i lucertoloidi e andarsene. E questo era qualcosa che il Master non aveva assolutamente previsto. Come farà adesso a far proseguire la storia non avendo niente di scritto. A questo punto entrano in gioco le motivazioni dei lucertoloidi. Riterranno che è meglio lasciar scappare gli avventurieri per evitare altre perdite o continueranno ad attaccarli per vendicare i loro compagni caduti. Il sacerdote potrebbe orientare la reazione della tribù in base alla loro visione religiosa. L'importante è mantenere sicuro il sacro tesoro e quindi il sangue caldo sono liberi di andarsene. O l'unico modo per placare la collera del dio drago e catturare gli invasori e sacrificarle in cima alla ziggurat. Se il Master aveva già deciso precedentemente quali sono le motivazioni che spingono i lucertoloidi a difendere il tesoro del dio drago, non avrà problemi a sapere come andrà avanti la storia. Se per esempio per i lucertoloidi la cosa più importante in assoluto è tenere al sicuro il tesoro, non avranno problemi a lasciare andare gli avventurieri. Dopotutto non sono riusciti a rubare il tesoro, dal loro punto di vista hanno vinto. Se invece ritengono che anche solo il minimo tentativo di furto sia una bestemmia che suscita l'ira del dio drago, non accetteranno la resa e cercheranno di ammazzare gli avventurieri a ogni costo. Anche lo stesso comportamento dei lucertoloidi durante la quest dovrebbe essere influenzato da questo. Se ritengono che la cosa più importante sia difendere il tesoro, combatteranno fino a un certo punto, ma se vedono che sono in svantaggio probabilmente si ritireranno, si cureranno, cercheranno di organizzare una difesa più efficace e attaccare gli avventurieri da un'altra parte. Se invece ritengono che il loro dio sia compiaciuto al fatto che loro cerchino in ogni modo di uccidere i trasgressori, probabilmente li assalteranno incuranti dei danni e delle ferite. Dopotutto chi muore in battaglia cercando di difendere il tesoro verrà ricompensato dal dio drago nell'aldilà. Il master a questo punto potrebbe non scrivere neanche la serie delle stanze che rappresentano la quest contro i lucertoloidi, ma limitarsi a scrivere una mezza dozzina di incontri interessanti contro i lucertoloidi e poi inserirli in quest quando la situazione sembra più favorevole quando ha più senso secondo la linea narrativa che sta emergendo dall'interazione tra personaggi e PNG. Questa tecnica è molto utile soprattutto quando si hanno molti PNG e una linea di azioni per i personaggi particolarmente confusa. Il suo uso classico è durante le quest investigative. La classica situazione in cui c'è stato un delitto e i PG devono scoprire quale sia l'assassino tra un gruppo di sospettati o comunque in linea generale quando c'è un largo gruppo di PNG e i PG devono scegliere loro, devono andare loro a capire con quale PNG interagire quando, in che modo farlo. In casi come questi il master non può sapere in anticipo quale sarà la linea d'azione dei giocatori e neanche ipotizzare quale sarà la linea d'azione più probabile. Normalmente è proprio il fatto che siano i PG a dover scegliere in che modo interagire con i PNG il fulcro di questo tipo di quest. Ma dato che devono essere i PG a decidere con chi, come, quando e perché andare a parlare con i PNG per raccogliere il più alto numero di indizi, il più alto numero di informazioni, il master è semplicemente impossibilitato a tracciare una linea narrativa o anche solo prevedere quale sarà l'ordine cronologico degli eventi che succederanno durante la quest. Quello che può fare però è attribuire a ogni PNG un suo carattere e una sua motivazione e lasciare che siano i PG a interagire liberamente e decidere le azioni dei PNG in base alle interazioni che avranno con i PG. L'assassino, ad esempio, potrebbe non fare nulla fin tanto che i PG non cominciano a sospettare di lui. A quel punto cercherà di deviare le indagini facendo puntare gli indizi su un altro di PNG non stabilito precedentemente ma in base a qual è l'altro maggiore sospettato dei PG. un altro PG potrebbe essere più o meno disposto a collaborare a fornire indizi in base a come i personaggi lo hanno trattato o in base all'allineamento, le idee politiche, la fazione con cui il party è stato schierato. Anche se apparentemente mettersi a decidere un carattere, una personalità e delle motivazioni per ogni PNG può sembrare che aumenti il lavoro del master e sicuramente lo aumenta nella fase di preparazione sul lungo periodo in realtà riduce i tempi. Il master, infatti, se ha strutturato bene i suoi PNG, se li ha motivati bene, non dovrà sforzarsi di scrivere ogni possibile scena per ogni possibile situazione in cui quel determinato PNG sarà coinvolto. Molte di queste scene, infatti, andrebbero fondamentalmente buttate e c'è anche il caso che un intero blocco di lavoro venga buttato semplicemente perché il party ha deciso che quel particolare PNG non gli piace, non è interessante e non vogliono averci a che fare. Usando il metodo dei PNG motivati, il master si può limitare a presentare il suo cast dei PNG al party e poi lasciare che sia il party a decidere quale tra questi PNG è il suo PNG preferito o comunque quello che trovano più interessante, quello con cui vogliono giocare e orientare la quest in base al comportamento di quel PNG. Alla lunga, come si diceva, molto meno lavoro. Oltre a tutto questo, la tecnica dei PNG motivati ha due fondamentali vantaggi per il master. Il primo è che fa sembrare l'ambiente di gioco molto più realistico togliendo quella patina da videogioco che molte avventure hanno in cui si ha l'impressione che tutti i PNG esistano in un limbo fintanto che non vengono tirati fuori per soddisfare i bisogni del party e poi ritornare a infilarsi uno sgabuzzino. Se i PNG più importanti, o volendo anche tutti i PNG, hanno un loro scopo o una loro motivazione, l'ambiente intorno ai PNG acquisterà maggiore profondità, diventerà molto più simile al mondo reale in cui le persone che si incontrano hanno ognuna un proprio scopo, un proprio interesse e qualcosa da fare. non sono lì ad aspettare che altre persone vadano a parlargli. Secondariamente, se il master riesce bene a incarnare le motivazioni dei suoi PNG, questi spingeranno anche gli stessi giocatori a interpretare molto meglio i loro PG e a non vederli semplicemente come un arido blocco di statistiche che servono per avanzare nel gioco. O nel peggiore dei casi saranno i PNG a mandare avanti la storia anche se i PG non possono, non vogliono, non sanno mettercene del loro. Per questo video è invece tutto, come sempre mi sa che ho parlato già troppo. Mi piacerebbe sapere da voi come utilizzate i vostri PNG, li rendete dei personaggi coerenti o focalizzate la narrazione esclusivamente sugli eroi e tutto deve ruotare intorno a loro? E perché avete scelto un metodo o perché avete scelto l'altro? Naturalmente, se avete domande, dubbi o perplessità usate l'area di discussione qua sotto. Se il video vi è piaciuto mettete un like e condividete che aiuta a crescere il canale. Io sono il Master CAE, noi ci vediamo al prossimo video.